Davvero grande protagonista del Parisio del Modena, si è conquistato il calcio di rigore, poi si è preso il pallone e lì che è successo? Il rigorista, aspettavamo Ferrari, invece sei andato Letizia. No, vabbè, l'ho chiesto se potevo cacciarlo, perché ovviamente io che sono arrivato l'ultimo, anche per riprendermi, ovviamente dice il calcio di rigore così. Ti sei preso un bel rischio, eh? Eh sì, i rischi si è fatti per la vita. Mi piace rischiare, anche e soprattutto che sono venuto qua, e rischiare di ritornare in Lega Pro. E allora, parliamo della prestazione, hai trovato per la prima volta la maglia da titolare, hai risposto presente, un campo infame, in cui il primo controllo era un optional, però vi siete riusciti ad adattare, avete sprecato tantissimo lì davanti. No, no, questo l'abbiamo preparato tutta la settimana, anche perché ci siamo allenati anche noi su un campo del genere, ovviamente, avendo visto il campo qua, allora ci siamo messi a posto. Poi c'è il rammarico, c'è il rammarico perché anche la pergolettese ha pareggiato 0-0 e potevamo recuperare due punti, però purtroppo che dobbiamo fare? Ti chiedo sugli episodi, grandi contestazioni sull'espulsione che a noi è parsa eccessiva, poi c'era un Mani nel secondo tempo sul tiro di Duca, nel finale il fuorigioco di Ferrario, insomma anche da questo punto di vista non va bene? No, assolutamente, perché mi sa che gli arbitri quando vengono a giocare contro abitacci al Modena c'è sempre qualcosa che non va, perché lascia stare il gol, forse stava in fuorigioco, non lo so di Ferrario, però il calcio di rigore su Duca c'è, anche il calcio di rigore che hanno avuto loro, con Dierna non penso che c'è l'espulsione, ci può stare l'ammunizione, io penso nemmeno rigore, però vabbè se c'è il rigore c'è l'ammunizione, ma non un'espulsione che ci lascia in dieci quasi tutta la partita. Invece il rigore che ti sei conquistato, sei stato un grande, perché hai proprio preso il tempo al Jadid e lo hai proprio anticipato? No, fortunatamente anche a lui, ha detto sei stato bravo Tony, ha detto quello che potevo fare e sono riuscito a prendermi il rigore fortunatamente. Ti chiedo, tu sei un uomo di esperienza, la batosta, inaspettata, ingiustificabile domenica contro il Classe, c'è stata questa reazione, ti chiedo a livello morale anche all'interno degli spogliatoi? No, sappiamo che noi l'unico obiettivo è vincere, ovviamente quando è successo domenica scorsa la sconfitta, anche i tifosi ci stanno prendendo un po' a parole, ma ci sta. Poi siamo venuti qua per vincere, capita, non ho parole, perché noi cerchiamo sempre di vincere e di soddisfare anche i tifosi soprattutto, è questa piazza importante che vuole immaginare un'altra volta i palcossegni più grandi. Noi ce la metteremo tutta veramente per vincere, soprattutto i ragazzi che è un grandissimo gruppo che sono arrivati alla fine, però a volte episodi succedono cose che non devono succedere. Senti, allora il Pullman è partito, quindi sei rimasto a piedi, se vai ti portiamo a casa noi, ma non è un problema, tu sei il napoletano verace, io ho l'impressione che a questa squadra manchi un po' di cazzimma, non ne hai un po' dalle tue parti per portare negli spogliatoi? Per questo sono venuto, anche per dare questa cosa un po' ai ragazzi, come prendersi un calcio di rigore e pure fare qualche giocata più velocemente. Oggi prima maglia da titolare, come te la sei goduta e ti chiediamo anche delle condizioni fisiche perché Bollini hai detto che hai qualche problema. No, vabbè, sono felicissimo di giocare dall'inizio perché è una rosa ampia, tutti forti e poi ognuno dà il suo contributo, chi entra per primo oppure chi comincia per primo entra al secondo tempo. Poi ho avuto un po' di problemi fisici perché sono stato fermo sei mesi, però bene. Sta tornando il Letizia che conosciamo dei campionati Serie C? Sì, 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 sta tornando. E allora, cosa vuoi dire? Siamo in conclusione sui titoli di coda, i tifogi che sono andati a casa, sono sulla strada di Modena, sono tutti arrabbiati, dai, sono arrabbiati perché i risultati non vengono, ancora una giornata in meno, sei punti da recuperare, ci si può credere ancora? Sì, 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 assolutamente, anzi, solo questo gli posso dire, di starci vicino perché noi prepariamo tutte le partite per vincere e soprattutto non solo per il Modena, ma anche per la tifoseria e la città di Modena.